Lo scorso 20 luglio i poliziotti della squadra mobile hanno eseguito due decreti di fermo emessi dalla procura della Repubblica verso il Tribunale per i minorenni di Napoli, rispettivamente nei confronti di Luigi Frenna, 19enne napoletano con precedenti di polizia, ed un 16enne napoletano in quanto gravemente iniziati di rapina aggravata perpetrata nella tarda serata del 17 luglio in via Salvatore Rosa in danno di due donne che viaggiavano a bordo di uno scooter. Nell'occasione due uomini travisati armati di pistola, anch'essi a bordo di un motociclo, si sono affiancati allo scooter delle vittime stratturando la conducente la quale aveva perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale. La passeggera trasportata d'urgenza all'ospitale Cardarelli era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le indagini condotte attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, gli accertamenti sulle targhe rilevate e le escursioni testimoniali hanno consentito di risalire i presunti responsabili nonché di rinvenire e sequestrare il veicolo e l'arma rivelata se una pistola replica priva di tappo rosso utilizzate per commettere il delitto. Al termine delle formalità diritto, Frenner e il minore sono stati rispettivamente associati alla casa circondariale di Napoli Poggioreale e al centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei, ovvero all'esito del giudizio di convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Colli Aminei, ovvero all'esito del giudizio di Napoli,